ciao boys e benvenuti in questo nuovo video oggi parleremo di un'applicazione esterna che trasformerà la vostra esperienza di gioco sul 7 corso competizione parliamo di acc drive che vi permetterà di tirare fuori ancora qualcosina in più dalle vostre sessioni di sim ma prima di immergersi nei dettagli ringraziando i boys di acc drive è stato organizzato un giveaway dove avrete la possibilità uno di voi di vincere una chiave di attivazione del programma gratis per partecipare al giveaway molto semplice basterà iscriversi al mio canale lasciare un like al video e commentare sotto nei commenti con hashtag acc drive giveaway il giveaway durerà da oggi dalla pubblicazione del video fino a domenica 8 ottobre tra lunedì 9 martedì 10 estrarrò casualmente tra i partecipanti chi si aggiudicherà la chiave di attivazione del programma allora iniziamo col dire che acc drive è un'applicazione che funziona esternamente ad assetto corso competizione nasce fin da subito come applicazione che ti permette di gestire le strategie di pit stop avendo la possibilità di creare delle piccole lobby all'interno direttamente del programma permette al tuo compagno di gestire tutta la strategia mentre tu stai guidando esternamente cosa molto utile perché come ben sappiamo quando andiamo a mettere le mani nella pagina della strategia quel mezzo secondo quel secondino lo perdiamo sempre durante quel giro lì ad esempio io ho un secondo monitor sopra al monitor principale che uso quindi lo tengo sempre aperto durante le mie sessioni però come prima cosa andrei a vedere come si installa questa applicazione per installare acc drive ovviamente ci colleghiamo al sito di acc drive che troverete il link sotto nella descrizione del video andremo su download by io ovviamente l'ho già acquistato appena usci diverso tempo fa comunque andremo su download by vi chiederà di pagare potete pagare sia con paypal carta di credito e via dicendo una volta pagata questa applicazione non dovrai più ripagare o niente cioè lo compri ci avrai la tua licenza e sei a posto arriverete a questa pagina qua dove c'è i vostri ordini adesso voi vedete che qui l'ho pagata 20 euro al tempo perché quando uscì costava 20 euro adesso ha un prezzo di 25 euro che secondo me comunque li vale tutti per il tempo che vi fa risparmiare e la possibilità di insomma di fare un next step su tante cose secondo me troverete la vostra key e ve la copierete subito qua avete un user manual dove vi spiega un po come funziona che scaricate in file pdf andrete su download vi chiederà di scaricare sia al net sono pacchetti microsoft che servono all'applicazione per funzionare scaricate prima al net che ci metterà pochissimo anche perché sono leggerissimi installate il pacchetto che vi scarica dal net dopo di che scaricate tramite download a cc drive vero e proprio aprirete il file e lo installerete e vi chiederà di inserire la vostra licenza schiacciate sul tasto login aspettate qualche secondo non sarà istantaneo se vedete che non va al primo colpo rispingete login e poco dopo si aprirà direttamente il programma funzionante una volta installato il programma vi si aprirà questo programmino molto semplice molto intuitivo dove è diviso in vari menu in alto abbiamo la pit strategy dove vi dà la possibilità poter creare una lobby all'interno del programma dove far accedere i vostri compagni di squadra eventualmente per la endurance una gara coppia o via dicendo ovviamente questo discorso applicabile se i vostri compagni di squadra hanno a loro volta cc drive creerete una password non so 0 0 0 fate crea e connetti ecco lui crea la lobby riconosce che sei dentro e qua sotto poi dopo se tornate indietro vi ha creato anche il nome della lobby lo copiate lo mandate al vostro compagno lui inserirà qua su join il nome della lobby che ha creato il programma gli darete la password che avete inserita lui farà connetti e qua sotto di fianco al vostro nome vedrete anche il nome dei vostri compagni all'interno di pit strategy avete a sua volta un altro menu dove c'è connection strategy live info pressure brakes e ora in modo pratico vi do una dimostrazione di come funziona questo programma mettiamo che vogliamo aggiungere 10 15 litri al pit stop cambiamo le gomme vogliamo il treno 5 teniamo sulle gomme d'asciutto mettiamo delle pressioni 26 davanti 26 5 dietro ripariamo i danni qua ovviamente nel menu a tendina quando sarete collegati con i vostri compagni potrete selezionare il vostro compagno che sta guidando la macchina dopodiché fate applica strategia e come per magia vedete che fa tutto in automatico modifica le pressioni e questo sostanzialmente quello che succede quando tu coi tuoi compagni avete a cc drive e create una lobby molto molto semplice è un programma che insomma va anche un po utilizzato ecco secondo me per per capire a fondo le potenzialità che ha poi abbiamo la pagina engineer dove sostanzialmente avrete anche il fuel calculator qua dentro poi c'è la pagina telemetry ecco quella un più interessante secondo me dove praticamente in laps avrete il vostro resoconto dello stint di tutti i giri che avete fatto è diviso in colonne pressione gomme temperature gomme e temperatura freni sempre alte medie e basse e con l'unica differenza che in tire pressure hanno giunto in realtà fin dall'inizio c'era che è veramente secondo me uno dei punti a favore di questa applicazione perché ha almeno che io conosca poi se non lo so se ce ne sono altre magari scrivetemelo nei commenti perché non le conosco che vi dà un'idea di quanta pressione perdete quando girate sulle gomme che è secondo me è un fattore abbastanza importante da sapere perché se vai a girare in pista non so come quelli inglesi donnington snatterton allton anche lo stesso severson insomma dove ci sono cordoli magari con un dente molto alto oppure c'è subito l'erba attaccata all'asfalto quindi c'è il dente dell'asfalto sono piste dove magari fai un'ora di gara donnington se non stai attento come scordoli o come passi in determinanti punti arrivi in fondo alla gara che hai perso un psi intero quindi qua molto interessante perché vi permette di capire quanta pressione perdete dalle gomme di conseguenza poi imparate a capire come magari si può prendere un determinato cordolo oppure no poi dopo di che vabbè vi dice sempre il tipo di gomma che usate il numero di set che state usando l'usura della pastiglia l'usura del disco poi dopo ecco qua un'altra roba molto interessante avete i settori dove ogni volta che passate sul traguardo si aggiornano i settori molto utile per me quando faccio la qualifica per capire in quale settore sto lasciando qualcosa un altro dato molto interessante è l'average medio del vostro stint ovvio su uno stint da quali non vi interessa niente però magari su uno stint da un'ora sapere che passo medio avete tenuto è un ottimo dato soprattutto quando si corrono delle endulance e poi la pagina hud all'inizio vi chiederà subito di creare un vostro profilo come vedete qua c'è il mio gli date un nome lo salvate così in modo che poi dopo potete anche esportarlo questo profilo attivare gli hud è molto semplice una delle prime operazioni da fare è quello di mettere il gioco in modalità schermo intero disabilitato perché se lo tenete a schermo intero abilitato ovviamente gli hud non li vedrete in overlay quindi bisogna disabilitare lo schermo intero per avere la possibilità di vedere gli hud che funzionano sull'applicazione esterna per dirvi qua è l'hud classico del gioco con l'app base delle gomme da qua abilitiamo il tire up per esempio e vedremo che compare il nuovo tire up qua sopra basta che ci andate sopra col mouse potete muoverlo come vi pare qua potete scegliere anche l'opacità se c'è il tasto per ogni hud per centrarlo al centro dello schermo se no reset hud position e ve lo mette vabbè adesso non si vede che fuori dallo schermo però qua in alto tutte le volte ve li metterà in alto a sinistra gli hud che attivate ve lo trascinate dove volete boom io lo tengo qua solitamente questa funzione vale per tutti gli hud cosa farò con lock o l'hud li blocco dopo se ci vado sopra col mouse non posso più trascinarli e poi faccio anche hide in menu che praticamente se torno ai pit tutti gli hud che ottiva ho attivato da cc drive spariranno tramite la scale posso cambiare la grandezza o rimpicciolire l'hud lo stesso discorso applicabile per tutti gli hud non so voglio l'app time info attivo l'app time info nuovo eccolo che compare qua sopra e posso metterlo al posto di quello del gioco io vi consiglio sempre quando vi state sistemando gli hud di attaccare l'always visible così vedete sempre gli hud poi dopo lo staccate vi consiglio sempre di loccarli in modo che poi non si muovono da dove li avete piazzati hide in menu così quando tornate ai box spariscono tutti gli hud è fatto il vostro la vostra configurazione fate save new settings sulla barretta verde hud setting saved nel vostro profilo e siete a posto una volta che vi siete poi sistemati i vostri hud andate in opzioni e per dirvi voglio togliere l'app delle gomme del gioco vado su app gomme oppure voglio togliere la mappa tempo sul giro e via dicendo faccio disabilitato app gomme conferma torno indietro guida e l'app gomme non c'è più e mi rimane solo quella di acc drive oltretutto molto utile l'app gomme di acc drive perché rispetto all'app base del gioco vi da molte più info come la temperatura delle gomme la temperatura dei dischi la percentuale di usura e gli 00 arancioni che vedete come vi dicevo prima è la perdita di pressione dalle gomme oltretutto vedete negli ultimi aggiornamenti hanno pure aggiunto che vi dice se avete il motore spento infatti se adesso accendo sparirà il lampeggio e vi dirà anche se avete il pit limiter attaccato col pit limiter staccato bene ragazzi direi che abbiamo toccato abbiamo visto come installare e utilizzare acc drive spero che sia stato abbastanza chiaro il video nel caso avete dei dubbi scrivete nei commenti e vi risponderò e posso dirvi che secondo me è un'applicazione quasi fondamentale almeno per me lo è anche perché tramite questa applicazione sono riuscito praticamente a a togliermi il motec anche perché ho tutti i dati che mi servono lì nella pagina telemetria in tempo reale non devo stare aprire un altro programma non devo stare a inserire i file non mi devo ricordare di attaccare i giri telemetria tante cose e come ben saprete o per chi non lo sa io ho un diciamo un mio progetto di coaching su assetto corso competizione dove ringrazio anche i ragazzi di acc drive che supportano questo progetto anche perché con tutti i ragazzi che seguono poi questo percorso insieme a me diventerà un'applicazione fondamentale su cui lavoreremo tanto spero che il video sia stato di vostro gradimento ragazzi qua sotto nel nella descrizione del video lascerò il link di affiliazione che ho con acc drive dove vi chiedo gentilmente di utilizzarlo se sarete interessati ad acquistare questo programma che ripetiamo dal prezzo di 25 euro solo una volta una volta comprato avrete per sempre la vostra licenza c'è un loro discord in cui potete entrare in caso di supporto oppure se volete vedere su cosa stanno lavorando i nuovi aggiornamenti che faranno all'applicazione oltretutto loro hanno anche una loro applicazione di broadcasting per chi organizza gare fa dirette e via dicendo e tramite il link che vi lascio qua in descrizione potrete acquistare il programma sempre allo stesso prezzo di 25 euro ma dando una mano al mio canale vi ringrazio della visione ci vediamo alla prossima ciao belli ciao